Tanto tanto tempo fa, in un castello bellissimo al margine del bosco, vivevano un re ed una regina con tutti i loro sudditi. Erano molto felici e la vita palazzo trascorreva spensierata. Ma quando nacque la loro figlia, Biancaneve, la regina morì e il re, per non far crescere la piccola principessa senza una mamma, decise di risposarsi. La nuova moglie era bellissima, ma molto vanitosa. Voleva essere la più bella e aveva uno specchio magico parlante che interrogava tutti i giorni. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lo specchio le rispondeva devoto. Mia regina, non ve al mondo nessuna fanciulla più bella di te. Passarono gli anni e la principessina cresceva, ogni giorno più gentile e graziosa che mai. Un mattino la matrigna andò dal suo specchio e fece la domanda di rito. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio le rispose. Mia regina, bella voi siete, ma al mondo c'è una fanciulla più bella di voi. Il suo nome è Biancaneve. Specchio, tu menti, io sola sono la più bella. Sì, voi siete bella, ma la bellezza di Biancaneve è lo specchio del suo buon cuore. A quelle parole la regina si infuriò e ordinò a un servo di chiamare il guardiacaccia dei corti e gli disse «Conduci Biancaneve nella foresta, uccidila e portami il suo cuore». Il guardiaciaccia, con una scusa, condusse Biancaneve nel bosco, ma osservando la sua grazia e la bontà del suo animo non ebbe il coraggio di farle del male. Si inginocchiò al suo cospetto e piangendo le disse «Principessa, perdonatemi, avrei dovuto uccidervi per ordine della regina. Fuggite lontano e non tornate mai più». Biancaneve, spaventata, fuggì nella foresta, adentrandosi sempre più, corse e corse, fino a che non si trovò in una bellissima radura con una deliziosa casetta. Bussò alla porta, bussò ancora, ma non ebbe nessuna risposta. L'uscio però era aperto e Biancaneve rimase stupita nel trovare sette piccole seggioline intorno ad un tavolo, con sette piatti, sette bicchieri, sette posate. Aveva fame, così entrò, si guardò intorno per cercare un po' di cibo, mangiò del pane e della frutta che erano sulla tavola e beve un bicchiere d'acqua. La casetta aveva anche una stanza da letto, dove c'erano sette lettini, tutti uguali. Biancaneve, stanca per la terribile esperienza, si addormentò proprio sui sette lettini. Mentre stava dormendo, entrarono i proprietari. Erano sette piccoli nanetti. Un po' impauriti, presero la scopa che era vicino all'uscita della casa e il più coraggioso, si fece avanti, seguito dagli altri che borbottavano. Chi ha mangiato il mio pane? Chi ha bevuto nel mio bicchiere? Chi sta dormendo nel mio letto? I sette nanetti avevano trovato Biancaneve, che raccontò loro la sua triste storia. I nani le proposero così di vivere con loro e Biancaneve accettò con gratitudine, diventando un po' la loro mamma. Intanto a palazzo la regina cattiva era raggiante di felicità. Credeva di aver eliminato la sua rivale e ne era tanto sicura che per un po' si era dimenticata del suo magico specchio. Un giorno però volle interrogarlo e gli porse la fatidica domanda. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio le rispose. Mia regina, bella voi siete, ma nella casetta del bosco un fiore ancora sboccia. Il suo nome è Biancaneve. Furiosa di rabbia, la regina corse nei suoi appartamenti e preparò un veleno. Vì immersa una mela rossa e con una magica pozione si tramutò in una vecchina. Così camuffata si incamminò verso il bosco per raggiungere la casetta ed avvelenare la povera principessa. Giunta alla casetta bussò all'uscio. Aprimi per favore, sono una povera vecchietta, sono molto stanca. Biancaneve la fece entrare per riposarsi e la vecchietta volle sdebitarsi regalandole una mela, proprio quella avvelenata. Biancaneve le diede un morso e cadde subito a terra in un sonno profondissimo. La vecchia fuggì subito per tornare al suo castello, felice di essere di nuovo lei la più bella. Quando tornarono dal lavoro, i nani trovarono Biancaneve e in quel momento un principe a cavallo che passava di lì notò il tralmusto e si avvicinò incuriosito. I nani gli raccontarono la triste storia e il del principe commosso volle dare almeno un ultimo bacio alla dolce fanciulla che grazie ad esso si svegliò. Ma cos'era successo? La strega cattiva aveva dimenticato una piccola cosa, il suo veleno aveva un antidoto e questo antidoto era proprio un bacio d'amore. Fu così che Biancaneve e il principe tornarono a palazzo, cacciarono la strega e vissero felici e contenti insieme ai loro amici nanetti. Grazie a tutti.